Bene, benvenuti, vedremo come fare questo genere di animazione cioè, in sostanza, come vedete, c'è questo video che ho fatto poco fa, privato in cui ho fatto vedere come prendere una farfalla quindi come modellare una farfalla e come farle fare partendo da una foto, vedete che ho preso una foto e partendo da questa foto cercheremo di animarla quindi nel momento in cui facciamo il play vediamo che la farfalla si mette a volare, insomma a sbattere le ali a fare questo mestiere va bene, allora questo qui era il filmatino lo lasciamo perdere più che altro dobbiamo cercare delle farfalle quindi io ho cercato, normalmente cerco in inglese butterfly perché si trovano normalmente molte più cose poi vado sulle immagini e sulle immagini cerco di trovare un'immagine tipo anche questa qua che è off-simile, insomma, che possono essere interessante nella fattispecie l'ho già scaricata l'ho messa in un punto in cui mi ricordo formato PNG o JPEG, non è importante e quindi entriamo un po' dentro Blender quindi la prima cosa che facciamo, a parte cancellare il cubo vedete che adesso abbiamo anche il bel insieme di tasti premuti andiamo in... andiamo senz'altro in... a inserire l'immagine di riferimento però prima di inserire l'immagine di riferimento andiamo in 7 ci vediamo dall'alto perché la farfalla la vediamo piatta, no? che vola e 5 nel tastellino numerico per vedere in modalità... no, dunque... ortografica premiamo 5 finché non è nella modalità giusta a questo punto dobbiamo avere l'immagine di riferimento l'immagine di riferimento è in Blender 2.8 si fa con Image, quindi hanno semplificato un pochino e mettiamo un'immagine o di Reference o di Background la differenza è che Background rimane in fondo e Reference rimane a metà dell'oggetto secondo delle vostre preferenze usate quello che vi sembra più interessante, proviamo Reference intanto Reference, ve lo ricordate, è la prima scelta quindi quando andiamo in Reference andiamo dentro dove vi ho messo vi ho fatto una cartella Butterfly dentro ci ho messo farfalla.jpeg e quindi abbiamo la nostra farfalla che diventa sostanzialmente... vedete che diversamente come siamo un po' abituati a vederlo in Blender 2.7 è una specie proprio di pannello rientriamo 7 per vedercelo bene grosso lo ingrandiamo un po' e proviamo a modellare questa cosa il più possibile allora la modellazione la facciamo dunque la facciamo in diversi tempi quindi modelliamo la prima cosa il corpo nella nostra farfalla e cerchiamo di farla il più semplice possibile quindi modelliamo Add Mesh e mettiamo un UV Sphere questa che però vedete risulta spostata quindi bisogna ruotarla attorno all'asse X di 90 gradi per averla allineata come ci aspetteremmo quindi facciamo R X 90 e vedete che abbiamo l'allineamento che ci aspetteremmo e a questo punto per vedere questa immagine per vederla come apparirebbe rispetto all'immagine di riferimento la cosa che a me viene spontanea è premere Z e andare in Wireframe in Wireframe vedete che la vediamo esattamente come ci potrebbe sembrare quindi qui cosa facciamo? la dobbiamo... per farla diventare uguale al corpicino di questa che è un po' più o meno cilindrico dobbiamo innanzitutto fare S cioè la scaliamo Shift Y questo sarebbe l'asse Y ma in realtà è da comprimerlo perpendicolarmente a quell'asse quindi facciamo S Shift Y e poi vedete che a questo punto questa qui più o meno assomiglia potrebbe assomigliare a questa nostra cosa ci avviciniamo per vederla meglio la rimpiccioliamo S Y per cercarla di fare più piccola più o meno questo rifacciamo di nuovo il discorso di prima quindi S Shift Y per renderla più o meno ecco cominciamo a esserci ed ecco a questo punto quello che succede è che dovremmo ruotarla in qualche modo quindi facciamo magari R proviamo a vedere se facciamo R ruotiamo ecco e più o meno questo potrebbe essere diciamo il corpo poi facciamo G per farla per farla associare allora questa è una cosa molto veloce che ho fatto per farvi vedere che torniamo Z solid e vediamo che abbiamo fatto effettivamente il corpo della farfalla non ci mettiamo a fare antenne occhi perché sennò diventerebbe lungo i tutorial su internet se ne trovano mi fanno vedere come si fanno ma ci accontentiamo di questo per il momento invece la cosa che diventa un po' impegnativa torniamo a 7 è costruire le ali allora le ali lo facciamo partendo da un piano adesso vedrete che qui facciamo una cosa un pochetto delicata se la prima volta che la fate vedrete che sarà un po' complessa anche per voi ma man mano poi vi ci abituerete io probabilmente adesso ci proverò e vedrete che verrà banalissimo nel senso che farò qualche errore comunque si parte da un piano ok questo è il piano di partenza e il piano che facciamo però lo dobbiamo suddividere dobbiamo fare un subdivide almeno in 10 parti tipicamente quindi dobbiamo andare in z object mode andiamo in edit mode e poi qui dobbiamo suddividere questo signore allora la suddivisione non so se riesco a trovarlo facilmente perché nel vecchio questa frw si otteneva qui vertex subdivide non lo trovo mai quindi quando non trovo una cosa mi nervosisco non so dov'è e allora cosa faccio faccio barra spaziatrice barra spaziatrice mi prometto di ricercare le varie cose quindi io mi ricordo che devo fare un subdivide quindi faccio subdivide e mi compare mesh subdivide quindi in realtà sotto mesh in teoria dovrei trovarmi subdivide vediamo un po' se è vero probabilmente voi lo vedrete molto meglio di me si passa sort elements non è un sort shading e boh chissà quale sarà stato transform forse neanche ecco come vedete la mia pazienza a questo punto è terminata allora ho fatto la search se a voi non funziona la search vuol dire che nella impostazione delle vostre preferenze c'è un'impostazione sulla keymap in cui ho impostato che da qualche parte c'è scritto che la spacebar action è search normalmente credo che sia play ma io preferisco che sia search c'è probabilmente un altro shortcut per fare la search ma io trovo molto comodo la barra spezzatrice se non vado in rato era proprio il modo che c'era anche prima ok quindi quando avete selezionato search fate poi il salva save current state e poi vi tenete quella impostazione quindi noi facciamo barra spezzatrice subdivide andiamo in subdivide ed ecco che compare vedete che aveva fatto una suddivisione in 4 ma noi gli diciamo qua di fare un numero di tagli pari a 10 ok quindi abbiamo questa qui diventerà la nostra ala bene vedete come fa questa roba diventare la nostra ala semplicemente noi adesso useremo la magia del come cavolo si chiama questo qui che serve il proportional editing in modo tale faremo faremo in modo che questo piano si depositi su questo triangolo e qui abbiamo la prima difficoltà se questo fosse stato più o meno quadrato l'avremmo fatto ma essendo che non è non è fatto così è un po' un casino quindi intanto di tutto andiamo in proportional editing selezioniamo uno spigolo e poi cominciamo a cercare di adagiare quindi facciamo G vedete che con G praticamente possiamo muovere progressivamente le parti quindi per dire adesso più lo facciamo ampio sto muovendo la rotellina e più lui praticamente mi sposta più o meno le cose quindi diciamo che questa parte di sopra magari la facciamo coincidere quindi la facciamo quindi clicchiamo qua G e la facciamo andare qua ok poi dobbiamo decidere come fare quindi potremmo dire che questo spigolo qua G e qui dobbiamo farlo un po' più piccolo perché se no ci distrugge un po' di robe comunque si fa tutto un po' a tentativi lo facciamo andare per dire fino a qua e poi dobbiamo aggiustare progressivamente il resto quindi qui selezioniamo ecco qui tra l'altro ho ripristinato il fatto che ha faccia select e doppio select mentre invece nel blender normale sarebbe alta A per togliere la selezione ma anche questo secondo me era più banale da fare ecco questo qui è un'opzione questo select all toggles che ho rimesso perché se no mi confondevo sempre comunque quello che dovete fare è sostanzialmente grazie al proportional editing di in qualche modo di praticamente fare in modo tale che di fare in modo tale di prendere questa griglia restringendo e lavorando in maniera opportuna con le grandezze degli schermi cioè della cosa diventi in sintesi quello che ricopra la nostra cosa se vi viene scomodo vederlo così tornate magari in maniera solida e la solida è già solida ah si perché questo qui vedete che è praticamente l'ala e proprio coincide con questo schermo quindi conviene forse mentre l'avete selezionato tutta questa cosa qua fare magari un G Z e spostarlo leggermente più su ok in questo modo almeno si vede un pochino più chiaramente quindi facciamo torniamo in wireframe ok quindi vedete che si vede un pochino meglio adesso che l'abbiamo messo un po' più su dell'immagine del riferimento quindi forse ecco in questo caso sarebbe stato meglio mettere non una reference image ma una background image in modo tale da non aver avuto questo problemino qua quindi che facciamo qui proviamo di nuovo a andare in edit mode quindi andiamo in qui siamo in object mode eh dobbiamo selezionare il nostro ok questo andiamo in edit mode e poi proviamo di nuovo a cercare di sempre con queste magie che abbiamo visto di fare in modo tale da fare in modo tale cliccando sul con G cerchiamo di fare in modo tale magari stringiamo un pochino di seguire più o meno la cosa qui ci sono in realtà un sacco di modi per fare questa questa cosa ho visto dei video che usavano le curve per farlo però secondo me eh per quanto potrebbe essere un pochino più incasinato questo sistema diciamo che è abbastanza intuitivo poi alla fine una volta che uno ci ha preso un po' la mano ok cerchiamo praticamente di fare in modo tale che ehm che da seguire un po' qui questo questo secondo me ci conviene drizzarlo un po' forse questa giriamo un po' a sinistra e insomma così praticamente seguiamo la cerchiamo di seguire quello che è la nostra nostra ala ok quindi questa per dire supponiamo che sia fatta bene troppo non riuscirò mai a farla come mi piace a me ma voi sicuramente avrete più pazienza insomma supponendo che questa sia l'ala a questo punto la la dobbiamo quindi facciamo facciamo diventare solida quindi altrettutto quando è solita possiamo capire meglio se stiamo seguendo la silhouette dietro quindi fare un pochino di correzioni insomma qui potete passare i pomeriggi invece che lavorare l'uncinetto potete lavorare d'altronde i creativi di blender più o meno fanno questo cioè aggiustano riaggiustano eccetera supponiamo che l'ala sia questa e qui è leggermente pasticciato ma non ha un grande importanza per il momento quindi adesso una volta fatto l'ala così aggiungiamo un modificatore l'ala per dare spessore vedete che adesso è un piano ma a noi interessa tramite questa opzione aggiungere un modificatore e gli mettiamo una solidify solidify gli mettiamo 0,1 tipicamente dovrebbe 0,1 dovrebbe farlo un pochino più spesso vedete che diventa una bella aluccia e poi gli mettiamo un altro modificatore che mettiamo il subdivision surface in modo tale da arrotondarlo un pochino quindi praticamente alla fine vedete che viene un'ala arrotondata bella e poi possiamo ancora fare ancora un piccolo mestiere che è quello di metterla smooth così diventa proprio così aggiungendo questi parametri vedete che cambia un pochino la viene smangiocchiata un pochino quindi conviene forse poi andare sempre usando la greglia originale e cercare di modificarla in modo tale da far aderire meglio quindi facciamo j ok facciamo lavoriamo in modo tale da di nuovo ecco qui quello che ho visto c'è della gente su di blender che questi mestieri li fa li fa proprio automaticamente comunque più lo fate in modo tale che segue il g ok una volta che siete più o meno contenti del modo in cui avete gli avete ecco diciamo così diciamo ah no vabbè supponiamo che così vada bene no? allora a questo punto la ala diciamo questa qui potrebbe andare bene diciamo e la sollevate un pochino perché se lo vedete di lato è troppo bassa quindi essendo troppo bassa conviene selezionarla poi fare g z in questo caso e metterla praticamente che parte dal corpo ok quindi a questo punto effettivamente siamo fatti meglio allora adesso sospendo il video rifaccio l'ala destra perché vedete che non è detto che sia simmetrica però non voglio perdere 5 minuti per farvi vedere i miei disastri con proportional editing e ci rivediamo fra un attimo con l'ala destra fatta ecco come ho detto ho pagato un pochino di tempo per fare il gioco del pongo per ottenere quest'altra immagine e quindi abbiamo i nostri tre elementi quindi le due ali in realtà su internet quando ho visto un po' di video del genere qualcuno criticava che diciamo che le farfalle hanno 4 hanno due paio ad ali quindi 4 ali ma ai fini di quello che interessa a noi va benissimo poi ripeto voi potete giocare metterci se volete anche le antenne mettere gli occhi le gambe se volete in alcuni video su internet la gente ci mette anche la peluria ma direi che siamo per fare un'animazione che è poi l'oggetto di questa cosa qua va benissimo ok quindi abbiamo finito la modellazione quindi io direi questo video per il momento lo fermiamo qua e nel prossimo video vedremo invece la texturizzazione perché così dividiamo prima la modellazione poi la texturizzazione e infine l'animazione che direi che almeno mi seguite forse meglio grazie